Musica Venerdì 6 ottobre, buongiorno e ben ritrovati a tutti cari telespettatori di Fano TV questa è la rassegna stampa del mattino, cominciamo con la lettura del calendario la lettura del calendario per vedere gli onomastici anche e laddove è possibile anche dare qualche cenno storico del Santo del Giorno vediamo oggi San Bruno, che cosa, ecco oggi è San Bruno, sacerdote monaco San Bruno possiamo dire soltanto che è nato, è nacque a Colonia intorno all'anno 1030 il sole è sorto alle 7.11, tramonterà le 18.41, il tempo per oggi, allora dicevamo delle piogge piogge che dalla tarda mattinata inizieranno con rovesci o temporali sparsi localmente anche di forte intensità, inizialmente da nord per estendersi poi al resto della regione nel pomeriggio i fenomeni saranno più insistenti nel settore centro-meridionale le temperature sono minime in aumento e le massime in diminuzione per la giornata di domani il tempo migliora con soltanto un po' di pioggia nella prima parte della mattinata i residui chiaramente dei temporali che inizieranno appunto da oggi e poi piano piano i fenomeni si esauriranno nel corso del pomeriggio le temperature sono in diminuzione, per la giornata e domenica invece il cielo sarà sereno o poco nuvoloso con temperature minime in diminuzione e le massime in aumento i venti saranno di brezza leggera, il tempo sarà stabile e soleggiato anche nella parte iniziale della prossima settimana attenzione quindi alle prime foschie, alle prime nebbie che sono le classiche nebbie di questa stagione purtroppo la triste vicenda che riguarda le forze dell'ordine in particolare i carabinieri della stazione di Fossombrone trovano spazio, questa notizia trova spazio sul Carlino di questa mattina è una vicenda come dicevo triste perché quando coinvolge le forze dell'ordine è sempre una notizia triste allora ladri in divisa, questo è il titolo, già dice tutto fermavano automobilisti e li derubavano con il trucco dei controlli chiusa l'inchiesta su due carabinieri della stazione di Fossombrone questa è la fotonotizia in primo piano sul resto del Carlino all'interno del quale troverete due pagine con tutti i dettagli noi ne analizziamo e ne apriamo una questa mattina la firma di Roberto Damiani furti con destrezza durante i controlli così i carabinieri hanno sottratto 1700 euro adesso ci sono due denunce due denunce da parte di automobilisti sono ancora da trovare invece altri quattro derubati i carabinieri hanno già confessato si tratta di due appuntati scelti di 39 e 47 anni mai nel loro confronto una nota di demerito lavoravano appunto nella stazione carabinieri di Fossombrone almeno una decina di casi vengono segnalati oltre alle due denunce degli automobilisti che si sono accorti di non avere più il denaro i militari avrebbero ammesso altri 7-8 casi di alleggerimento con destrezza come facevano, come agivano lo scrive Damiani questa mattina sul quotidiano intanto il comandante, il colonnello Luciano Ricciardi ha detto l'arma ha già provveduto al loro trasferimento prima ancora dell'esito dell'indagine dei due militari protagonisti di questa amara vicenda sono stati i colleghi a indagare su di loro questa è la notizia in primo piano sul resto del Carlino poi si parla di Confindustria che ieri a Fano al Teatro della Fortuna ha eletto il nuovo presidente di Confindustria Marche Nord che lo abbiamo già detto ampliamente anche nella giornata di ieri si tratta di Mauro Papalini, fanese e dunque con la benedizione di Boccia il nuovo comandante che guida Pesaro e Urbino che è il comandante degli industriali chiaramente dobbiamo valorizzare dice Papalini il settore manufatturiero le aziende che crescono creano ricchezza per tutti mentre quello che il presidente uscente in questi mesi ha dichiarato la situazione è migliorata ma dobbiamo fare di più per aumentare anche l'occupazione sulla pagina di Fano invece una notizia curiosa ma anche nello stesso tempo interessante perché? perché come scrive questa mattina appunto Clapi sul giornale hai un cognome fanese ora con il database scopri subito i tuoi avi l'archivio di Stato domenica è aperto al pubblico dunque chi ha un cognome fanese e vuole approfondire le notizie sulla sua famiglia magari fino a disegnare il suo albero genealogico può da adesso in avanti approfittare dei moltissimi documenti messi a disposizione dall'archivio di Stato la sezione di Fano che ha di recente portato a termine un interessante lavoro di schedatura analitica digitale e addirittura insomma come dice Fernanda Consolani che è la responsabile archivio della sezione di Fano è possibile pescare dalla leva militare dai volumi dell'archivio napoleonico e dal catasto gregoriano quindi si può addirittura recuperare le nascite, le morte e i matrimoni dei fanesi dal 1808 al 1814 ditemi voi se questo non è davvero affascinante allora questa è la notizia che troverete sulla pagina di Fano del resto del Carlino poi l'altra sera qui negli studi di Occhio alla Notizia di Fano TV c'è stato il primo cittadino di Pesaro Matteo Ricci una trasmissione molto 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 seguita che ha avuto un successo di pubblico incredibile e il giornale i due quotidiani questa mattina a dire il vero tutti e due sia il resto del Carlino che il Corriere Adriatico prendono spunto da questa intervista da questa diretta dell'altro giorno per innanzitutto dire che per esempio sulla questione sulla rottura tra la prefettura e i sindaci secondo Ricci è un errore questa denuncia è un errore la denuncia contro i sindaci le istituzioni devono collaborare Ricci sul prefetto ritengo sbagliata anche la loro polemica lo ha detto negli studi televisivi di Fano TV il prefetto Luigi Pizzi ha annunciato nei giorni scorsi questa denuncia in procura per difamazione a carico di 13 sindaci della provincia e la mia impostazione dice è diversa dal loro documento ma non era assolutamente diffamatorio e poi Patrizia Bartolucci questa mattina scrive sul giornale tutto insomma gran parte del Ricci pensiero su questa su questa vicenda dicevamo anche il Corriere Adriatico il Corriere Adriatico ha scritto su questo su questo argomento e lo vedremo tra poco intanto da Fossombrone sempre sul resto del Carlino c'è questa diatriba vi faccio vedere la fotografia intanto di questo rapace che è lì per combattere i piccioni allora il problema qual è a Fossombrone i troppi piccioni in città allora qui ci sono due due scuole di pensiero la prima quella del vecchio della vecchia amministrazione guidata da Pelagaggia che aveva organizzato con delle gabbie eccetera eccetera un sistema di gabbie con richiami per la cattura dei piccioni che appunto era era messa in campo era stata messa in campo durante la giunta a Pelagaggia Bonci invece il nuovo il nuovo sindaco per risolvere il problema dei troppi piccioni ha pensato appunto per combatterli a questa poiana usata contro i piccioni ecco questa è un po' la però insomma il problema è che adesso la minoranza critica questo nuovo sistema adottato dei grillini era meglio quando noi usavamo le gabbie dicono e poi costa molto di più perché per due mesi 5.500 euro noi con 15.000 euro l'anno ne abbiamo catturati 3.000 questa è la situazione e questa è la polemica che in questo momento c'è sui piccioni a Fossombrone invece a Fano se ne è chiusa una di polemica sul pesce sul brodetto perché perché fino a ieri erano un po' separati in casa cioè tutti e due nella stessa città tutti e due con lo stesso obiettivo quello di valorizzare il prodotto del brodetto però non si parlavano non andavano d'accordo era la confraternita del brodetto guidata da Valentino Valentini e di confesercenti che invece organizza un festival importante che ormai è diventato nazionale anzi internazionale ebbene sul brodetto adesso scoppia la pace questa è la notizia di stamattina sul Carlino e forse cambia anche la data del festival confesercenti e la confraternita si danno la mano Federico Valentini in tanti lo riconosceranno anche perché è stato presidente della fondazione Cassa di Risparmio di Fano per tanti anni eccolo qua che dà la mano a Fiorelli di confesercenti e insomma poi l'altro l'altro di cui adesso mi sfugge il nome però insomma sempre della dirigenza della confesercenti quindi questa è la notizia ancora su Fano andiamo invece adesso di nuovo a Pesaro perché perché scienze religiose ora la lezione è indiretta a Villa Borromeo la sede di formazione a distanza del nuovo istituto Redemptoris Mater la struttura fa capo ad Ancona dove il docente sarà collegato in video con Pesaro e Ascoli ed è una realtà unica dunque la fede indiretta questo è l'inizio di questo articolo la formazione pure basta bussare in via a Bogadro a Villa Borromeo a Pesaro dove decolla il nuovo istituto superiore di scienze religiose lezioni al via il 24 di ottobre con una sostanziale novità cioè quello che prima si chiamava istituto Giovanni Paolo II diventerà sede di formazione a distanza e poi al santuario delle grazie invece tutto pronto perché si avvicina la festa del voto inizia oggi la novena in preparazione di questa festa del voto in programma domenica 15 ottobre sul tema i giovani e la fede e il discernimento vocazionale ogni giorno alle 17 e 15 sarà la recita del rosario con le litanie cantate e poi alle 18 la santa messa la celebrazione eucaristica con l'omelia e qua c'è tutto il programma che potrete vedere sul giornale di questa di questa mattina adesso apriamo invece il corriere adriatico andiamo sulla pagina di Fano sul laboratorio di biologia marina il laboratorio di biologia marina rilanciato dall'ateneo di Bologna nell'ufficio del sindaco il rettore ubertini che ha illustrato i programmi di sviluppo buone notizie anche per la stagione del teatro a Fano perché c'è un nuovo record da segnalare per quanto riguarda gli abbonamenti i giovani scoprono il teatro la prosa inizia con Fievele tante adesioni dagli studenti delle superiori dalla valle del Cesano tariffa puntuale per l'immondizia il conferimento ora è elettronico sono stati stanziati 33 mila euro per il nuovo sistema per le utenze domestiche e il residuo secco ogni utente pagherà per la quantità di rifiuti conferiti e questa è democrazia se vogliamo la democrazia della pattumiera perché perché a volte uno paga poi magari consuma poco e quindi così è più giusto uno paga secondo quello che consuma quello che che butta mezzo milione invece a San Lorenzo in campo dalla regione la variante ora diventa realtà scongiurata l'incompiuta il sindaco parla di un'opera rivoluzionaria che rivoluzionerà la viabilità di San Lorenzo in campo andiamo ancora avanti con la rassegna stampa su Senigallia la pagina di Senigallia la cronaca in primo piano con due spacciatori di droga due pusher con eroina e cocaina in casa un magazzino per la refurtiva inseguiti dai militari lungo le scale di un condominio di via Filzi gettano la droga ma chiaramente non basta sono stati pizzicati e poi i ladri ladri sempre attivi in azione a Senigallia da Egdi Shop fuga con orecchini e rossetti colpo in via San Martino assegno nella notte il titolare dice ormai qui non c'è più pace anche sul Corriere Adriatico c'è la notizia che l'Istituto Superiore di Scienze Religiosi a Pesaro diventa una università con video video lezioni già 10 iscritti c'è l'accordo tra la conferenza episcopale italiana e il MIUR per l'equiparazione e poi dicevamo della trasmissione dell'altra sera di Primo Cittadino ecco cosa scrive Thomas Delbianco sul Corriere Adriatico di questa mattina tra prefetto e sindaci brutta vicenda Ricci in trasferta a Fano TV risponde a ruota libera su sanità viabilità e tensione crescente sui rapporti istituzionali l'opinione di Ricci è di non condividere quella lettera ma dentro non c'è nessuna diffamazione il rapporto non deve essere dall'alto al basso Fano diventerà struttura convenzionata per quanto riguarda la sanità convenzionata privata ma sempre gratuita e dove lavoreranno delle eccellenze da Fossombrone il Corriere Adriatico ci racconta invece di un'auto che è finita contro un Daino paura sulla Flaminia una utilitaria distrutta nello schianto donna al volante sotto shock è successo tra nel tratto della vecchia Flaminia tra Piancerreto e San Lazzaro di Fossombrone al volante di questa utilitaria c'era una donna il Daino è chiaramente morto sul colpo mentre in Colume la cinquantenne che stava guidando poi Magalli che ci fa Magalli qui? Magalli è ad Acqualagna sapete che adesso Pergola ha aperto le danze con i festival nazionali e internazionali del tartufo e poi da lì in poi ce ne saranno ancora tanti c'è Acqualagna c'è Sant'Angelo in Bado insomma ce ne sono diversi ecco Magalli che annusa questo prezioso tubero e adesso arrivano anche le quotazioni di questo tartufo le quotazioni che come sapete insomma vanno in base alla stagione la quotazione di questa settimana stimano il bianco che è il tartufo annusato da Magalli sui 1,5-2 mila euro per le pezzature più piccole quindi 1,5-2 mila euro intorno ai 3 mila euro al chilo invece per quelle grandi eh sì poi abbiamo la pagina da Montelabate hanno il Kalashnikov di Laga la paura sono stati denunciati quattro lituani trovati in un'auto francese a Osteria Nuova con due pistole ad aria compressa e varie attrezze da scasso l'intervento dei carabinieri ingigantito anche sui social ha creato il panico la sindaca Ferri costretta a intervenire con un post e a ridare la giusta dimensione all'accaduto e poi direi che possiamo fermarci qui non c'è non c'è altro no andiamo un attimo su Urbino ecco c'è questa pagina qua sempre per quanto riguarda la cronaca evasione fiscale milionaria condannati tre imprenditori operazione Spidi ma questa se non sbaglio è quella di ieri vorrei avere è di venerdì che giorno è oggi Riccardo sì sì è venerdì è venerdì oggi 6 ottobre è una cosa mi sembra una cosa vecchia quindi è giusta ok condannati tre imprenditori operazione Spidi Chinese tre anni al Dominus orientale sei mesi invece ai collaboratori con le confische il messaggio è chiaro lo Stato si rivale così ha detto Angelo Mottola che è il comandante della finanza di Urbino bene le notizie come avete visto sono sempre in movimento c'è siamo tempestati da una da una valanga di informazioni dalla mattina alla sera è davvero una notizia che appare un paio d'ore fa sembra dopo 5-6 ore sembra già vecchia di mesi ma in realtà è perché ne arrivano tante di informazioni dobbiamo gestire una valanga va bene ci fermiamo qua noi ci vediamo stasera alle 20 e 30 con il telegiornale Occhio alla Notizia se avete segnalazioni 338 49 68 250 a voi tutti l'augurio di una serena giornata a voi tutti